Tanti auguri al Reggio, tanti auguri a te. 10 aprile 2020, ora più che mai auguri, tantissimi auguri al Teatro Reggio di Torino. Sono Nicola Olivieri, amo Torino e adoro il Teatro Reggio, che in questi vent'anni di frequentazione mi ha dato tantissime soddisfazioni artistiche. Mi aggiungo ai tanti amici per fargli oggi i miei più sentiti auguri di buon compleanno. 10 aprile 1973, 10 aprile 2020, sono 47 anni che il Teatro Reggio di Torino è tornato alla vita e volevo augurare buon compleanno e soprattutto dire che il Teatro Reggio è stato un polo culturale fondamentale negli ultimi anni, ma soprattutto negli anni passati, nel passato, anche prima del 73. Perché questa città è veramente speciale. Tanti auguri e a presto. Ciao. Ciao, io sono Vartuia Bramian, ho cantato per la prima volta al Teatro Reggio Torino lo scorso dicembre in Carmen. Ho avuto un modo di conoscere questo meraviglioso teatro e le persone speciali che vi lavorano e mi hanno fatta sentire a casa. Oggi, 10 aprile, faccio i miei auguri più sinceri al Reggio. Lunga vita, felicitazioni, shnora volumen! Lunga vita, felicitazioni, shnora volumen!